Due mesi dopo, Sindaco, com'è la situazione? Dopo tutti gli interventi siamo partiti con dei lavori, abbiamo messo in sicurezza a Monte, abbiamo aperto la strada e abbiamo tolto un po' di materia prima lì davanti alle case. Rimangono ancora delle case chiuse perché non sono in sicurezza. Quelli che erano sfollati, qualche d'uno è già rientrato, però ci mancano il dio denaro. Speriamo che qualche d'uno la regione così ci dia la possibilità di continuare a mettere in sicurezza sotto la strada perché dobbiamo togliere tutte le macerie e vedere cosa troviamo perché sotto non sappiamo com'è messo il muro della strada e altre cose e la gente è un po' ancora tutta sotto shock, non è che il paese è ripreso in pieno perché sopra dei pericoli ce ne sono ancora, però il grosso l'abbiamo tolto di pericolo sperando che non venga a piovere o venga a nevicare abbondantemente. Sindaco, quali sarebbero gli interventi più urgenti e necessari? Togliere la materia prima e vedere in che condizioni è il muro della strada e mettere a monte una rete paramassi, una protezione. Una rete paramassi, qualcosa per lavorare ancora più in sicurezza. Un ruolo importante nella prima ricostruzione di Massiole, speriamo in quella futura, l'hanno avuto le persone e il buon cuore delle persone. Sì certo, nel nostro piccolo, con la mia attività, le follette così, abbiamo dato una mano e dobbiamo ringraziare tante persone privati perché abbiamo raccolto i soldi della lotteria così, però capite che sono poca cosa, cioè 2000 euro, 1500 euro, è pochissimo. Speriamo adesso anche nel Natale di fare qualcos'altro, di poter raccogliere ancora un qualcosa. Soldi che sono andati al comune, no? Soldi che sono andati al comune per un po' per tutto, per il negozio, per la signora Franca che proprio ha perso tutto e nel nostro piccolo noi ci proviamo, capisci che è proprio niente, una goccia in un mare. Da parte vostra un appello anche alle istituzioni, tutte. Io appunto chiederei proprio alle istituzioni della zona soprattutto, che si facciano sentire, che vengono su anche a vedere com'è il nostro paese, perché noi ci teniamo tantissimo. Io faccio parte anche delle follette che è un gruppo di donne che sta lavorando da diversi anni e che tutto quello che raccogliamo viene dato per abbellire il paese. Adesso arriveranno le feste e noi faremo in modo che il nostro paese sia ancora più illuminato degli altri anni, perché vogliamo che la gente si senta che ci siamo, che è un paese che deve vivere, non deve morire. Però sono le istituzioni che devono farsi sentire, perché noi cerchiamo di raccogliere qualcosa, di far qualcosa, ma sono proprio briccioli. Tra l'altro è stato anche attivato un conto corrente sul sito del Comune, dove chi vuole può fare una donazione. Esatto, esatto. Sul sito del Comune ci sarà appunto questo conto corrente, che chi vuole devolvere qualcosa può andare anche solo sul sito, vede l'Iban della banca, e se ci aiutano sono grandi cose. Siamo contenti.